Ciao ragazzi, inauguriamo questa playlist dedicata al calcolo letterale parlando di monomi, che sono in un certo senso il mattoncino più semplice su cui si costruisce poi il calcolo letterale. Cerchiamo innanzitutto di capire di che cosa si tratta. Per monomio si intende un'espressione algebrica in cui compaiono solamente moltiplicazioni tra numeri e lettere eventualmente elevate ad un esponente naturale, ovvero aventi come esponente un numero intero maggiore o uguale di zero. Per fissare meglio le idee qui sotto vi ho riportato quattro esempi di monomi e vedete che effettivamente in tutte queste espressioni l'unica operazione che compare è la moltiplicazione ed è fatta tra numeri e delle lettere che possono eventualmente essere elevate ad un esponente che sia però un numero naturale. Non sono invece monomi i quattro che vi ho riportato qui sulla destra. Cerchiamo di capire perché. Nel primo caso vedete abbiamo un'addizione e questo naturalmente non va bene. Nel secondo caso c'è una moltiplicazione ma la lettera compare sotto radice e anche questo non ci piace. Nel terzo caso invece abbiamo una lettera al denominatore e questo come vedremo è equivalente a dire che la lettera è elevata ad un numero negativo mentre noi vogliamo esponenti naturali per poter parlare di monomio e per lo stesso motivo non ci va bene nemmeno l'ultimo perché vedete l'esponente della x un quarto è un numero razionale ovvero una frazione e non un numero naturale. Un monomio si dice ridotto in forma normale quando è scritto come prodotto tra un numero e una o più lettere diverse tra loro eventualmente elevate a potenza. E di nuovo per fissare meglio le idee diamo un'occhiata ad un paio di esempi. Vedete che i primi due che vi ho riportato qui sono monomi scritti in forma normale perché effettivamente c'è soltanto un numero e le lettere non compaiono mai ripetute ci sono una sola volta eventualmente elevate a potenza. Mentre nel terzo e nel quarto esempio qui a destra vedete che non abbiamo dei monomi scritti in forma normale perché nel terzo caso abbiamo due numeri e c'è anche la a che si dipette due volte mentre nel quarto esempio abbiamo la x che si dipette due volte. Ma naturalmente se un monomio non è scritto in forma normale possiamo facilmente riportarcelo noi svolgendo le moltiplicazioni tra i numeri ed eventualmente tra le lettere dello stesso tipo. Giusto per fare un esempio se volessi riscrivermi il mio monomio di prima in forma normale che cosa posso fare? Beh vedete innanzitutto posso riscrivermelo così e ho semplicemente cambiato l'ordine dei termini di questa moltiplicazione e questo lo posso fare perché come sappiamo la moltiplicazione è commutativa e a questo punto moltiplico i numeri tra di loro vedete ho un meno 3 per meno 2 che fa 6 e poi le lettere dello stesso tipo tra loro quindi vedete ho una a per un a alla quarta che come ricorderete dalle proprietà delle potenze delle medie da come risultato a alla quinta perché devo sommare gli esponenti. Dunque il mio monomio che in partenza non era in forma normale l'ho riscritto equivalentemente come 6a alla quinta b che è in forma normale. Quando ci troviamo davanti ad un monomio scritto in forma normale il numero davanti prende il nome di coefficiente mentre le lettere costituiscono la cosiddetta parte letterale. Appurato questo cerchiamo di capire che cosa si intende per grado di un monomio. Il grado complessivo, ho detto anche semplicemente il grado di un monomio, non è altro che la somma degli esponenti a cui compaiono elevate le lettere all'interno del monomio, mentre per grado rispetto ad una lettera si intende l'esponente a cui quella lettera è elevata all'interno del monomio. Volendo fare un paio di esempi il monomio 3x quadrato y alla quarta è di secondo grado rispetto alla x mentre è di quarto grado rispetto alla y perché vedete x ha come esponente 2 mentre y ha come esponente 4. E dunque diremo che il grado complessivo è 2 più 4 ovvero 6 o equivalentemente che si tratta di un monomio di sesto grado. Similmente diremo che il monomio a al cubo b alla seconda è di terzo grado rispetto alla lettera a che infatti è elevata alla terza mentre ha di secondo grado rispetto alla lettera b che infatti è elevata alla seconda e dunque nel complesso è un monomio di quinto grado. Notate per inciso che il coefficiente qui davanti che non vedete è in questo caso 1 e quando il coefficiente è 1 lo si sottointende. Si dice invece che due o più monomi sono simili quando hanno la stessa parte letterale e qui sotto vi ho riportato un paio di esempi. Vedete che in questa prima terna tutti e tre i monomi hanno come parte letterale x alla seconda y dunque sono simili tra loro ed analogamente sono simili tra loro anche questi tre monomi qui perché hanno tutti come parte letterale a b alla terza. Appurato questo diamo finalmente un'occhiata alle varie operazioni che possiamo fare con i monomi e nel farlo cominciamo da quella più semplice ovvero la somma. La somma algebrica di due o più monomi simili è un monomio che ha la stessa parte letterale dei monomi che stiamo sommando era per coefficiente la somma algebrica dei coefficienti. Giusto per fare un paio di esempi se dovessi sommare il monomio 2xy con il monomio 3xy il risultato sarebbe 5xy. Se volete per lo stesso motivo per cui ad esempio 2 caramelle più 3 caramelle dà come risultato 5 caramelle. Fondamentalmente la procedura è simile e analogamente se dovessi sommare meno due terzi xy quadro con un mezzo xy quadro e vedete che si tratta di due monomi simili perché hanno la stessa parte letterale sarà sufficiente fare la somma tra meno due terzi e un mezzo e vedete che ve l'ho fatta qui davanti e poi ricopiare la parte letterale dunque xy quadro. A questo punto se uno fa il conto si ottiene meno un sesto xy quadro. Mentre mi raccomando se i monomi non sono simili come in questo esempio qui non si può fare nulla di furbo e il risultato di questa operazione non è più un monomio ma come vedremo è un polinomio. Naturalmente se all'interno di una somma algebrica non tutti i monomi sono simili però ci sono dei gruppettini di monomi simili tra loro allora questi qui li possiamo sommare e quindi ad esempio la somma algebrica 3a meno 2b più mezzo a più 6b meno 2a si può riscrivere semplicemente come 3 mezzi a più 4b e per fare questo è sufficiente prendere i sottogruppetti di monomi simili tra loro che vedete vi ho colorato qui in verde e in giallo e procedere a fare la somma come abbiamo visto poco fa. Nel nostro esempio specifico abbiamo quindi un 3a più un mezzo a meno 2a che se facciamo il conto dà come risultato 3 mezzi a e poi abbiamo un meno 2b più 6b che diventa un meno 2 più 6 moltiplicato per b ovvero 4b. Capito questo occupiamoci a questo punto della moltiplicazione che a differenza della somma è un'operazione che possiamo fare con qualunque coppia o terna o in generale gruppo di monomi anche se non sono simili tra loro. In particolare il prodotto di due o più monomi è un monomio che ha per coefficiente il prodotto dei coefficienti e in cui nella parte letterale ogni lettera ha per esponente la somma degli esponenti con cui la lettera compare elevata all'interno dei fattori che stiamo moltiplicando. Per fissare meglio le idee qui sotto vi ho riportato alcuni esempi e vedete che nel primo abbiamo un 3a quadro b che moltiplica un 2a alla terza b alla settima e il tutto ha come risultato 6a alla quinta b alla ottava. Cerchiamo di capire perché. Il coefficiente 6 è banalmente il prodotto dei coefficienti mentre ciascuna lettera nel risultato ha come esponente la somma degli esponenti a cui compare elevata nei fattori. Dunque avremo un a alla seconda per a alla terza che fa a alla quinta e un b per b alla settima che dà come risultato b alla ottava. E se ci pensate è del tutto naturale che le cose stiano così alla luce delle proprietà delle potenze. Quindi di fatto questa non è una regola nuova da imparare a memoria. Si tratta fondamentalmente di fare la cosa più naturale possibile e cioè moltiplicare prima i numeri tra di loro e poi le lettere tra loro applicando le proprietà delle potenze. Similmente nel secondo esempio abbiamo un meno un mezzo per 4 che dà come risultato meno 2 e poi abbiamo un x per x alla seconda che fa x alla terza e y che compare solamente nel secondo fattore ce la ritroveremo invariata nel risultato. E con analoghe considerazioni possiamo concludere che tra x per meno 2xy per 5x alla seconda yz da come risultato meno 30x alla quarta y alla seconda z. Per concludere diamo a questo punto un'occhiata alle potenze e qui l'idea è che per calcolare la potenza con un certo esponente n naturale di un monomio è sufficiente elevare alla n il coefficiente e poi moltiplicare per n ciascuno degli esponenti a cui sono elevate le varie lettere. Qui sotto vi ho riportato un paio di esempi e vedete che nel primo caso abbiamo un 2xy quadro il tutto elevato alla terza e come facciamo a fare questa operazione? Beh dobbiamo elevare alla terza il 2 e dunque otteniamo come risultato 8 e poi moltiplicare per 3 gli esponenti delle due lettere che sono rispettivamente 1 e 2 e che quindi nel risultato diventeranno 3 e 6. Similmente se dovessi elevare al quadrato questo monomio qui dovrò innanzitutto elevare al quadrato il coefficiente meno un mezzo che dà come risultato quindi un quarto e poi abbiamo un x alla quarta e un y alla terza i cui esponenti vanno moltiplicati per 2 e dunque otterrò come risultato un quarto x alla ottava y alla sesta e con un ragionamento del tutto analogo si conclude che x y quadro elevato alla 2016 dà come risultato x alla 2016 per y alla 4032 dove il coefficiente qui davanti che è sottointeso e sarebbe 1 non è altro che l'1 che c'è qui di nuovo sottointeso elevato alla 2016 e il motivo per cui le cose funzionano così è fondamentalmente riconducibile a quelle stesse proprietà delle potenze con cui tutti voi siete abituati a lavorare sui numeri fino dalle medie ma mi raccomando vale la pena ricordare che elevare alla 1 un monomio dà come risultato il monomio stesso quindi ad esempio 3ab elevato alla 1 fa semplicemente 3ab non è successo nulla mentre elevare alla 0 un monomio non nullo dà come risultato 1 e dunque ad esempio 3ab elevato alla 0 dà come risultato 1 se ci pensate è esattamente la stessa cosa che accade con i numeri quando eleviamo alla 1 non succede nulla mentre quando eleviamo alla 0 a meno che l'oggetto che stiamo elevando non sia proprio 0 il risultato dell'operazione è 1 detto questo ragazzi io per il momento ho terminato nel prossimo video proseguiremo il discorso sui monomi parlando di divisione e minimo comune multiplo e massimo come un divisore come sempre se avete trovato utile il video ricordatevi di mettere mi piace passate a trovarmi su facebook ed instagram e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video